E' durata appena 22 minuti la gara di Stefan El Sharawi contro il Real Madrid Martedì di Champions League amaro per i giallorossi e in particolare per il faraone, costretto a lasciare il canico, sostituito da Justin Clymer. Nelle prime battute della battuta, in seguito a uno scatto sulla fascia e ad un contatto con Modric, che ha portato al giallo per il giocatore croato, l'attaccante della Roma ha cominciato a toccarsi la gara, chiedendo in campo, un incorpuglio al pressore destro che ha preoccupato sin da subito Eusebio Di Francesco Alla luce soprattutto del fatto che El Sharawi neppure riusciva a camminare al momento dell'uscita da Roma, al termine della partita. L'allenatore giallorossi ha confermato le brutte notizie, contro l'Inter mancheranno di sicuro Giacomo, De Rossi, El Sharawi e Tullegri, metto a lì un esame, Roma in emergenza.Previsti per gli esami strumentali nella giornata di mercoledì, controlli che riusciranno a chiarire con esattezza l'entità del mercoledì Lui ha confermato di Francesco Andrade a giungarsi alla lista di allunga di Gallo Rossi di Manu . . . . .